Mi riusci a colazione stamattina, pure a Fiorello vi riuscire Io sono già pagato eh? Allora forza Cioè nel fare l'imitazione, Lino Banfi vestito dalla fantozza Come vado lei? La donna di Corriere, la fila, vabbè la lingua diciamo che non è la stessa cosa ragazzi Ma tu fai anche, tu di quelli che io non conosco Farvi Alessandro Haber, Andrea Loncatto Fammi, fammi, vediamo, prova a fare Sgarbi Ma direi che culturalmente la trasmissione di Fiorello è frequentata da persone particolari, però artisti e non capre Possiamo parlare troppo perché sennò vediamo gente Non devi parlare, le fa tutte lui Con il DPCM di Fiorello direi che insomma la risata Chi è questo? E' assicurata che il DPCM, vabbè il signor Conte che insomma ci ha terrorizzato Vabbè Poi c'è sta Enrico Montesano, Enrico va simpatico, Montesano Andandovici E c'è l'aride tutto il mondo, unideli Ma il fischio non è borghigno, è forte